Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Il traffico al momento regolare su strade e autostrade della Toscana. Uno sguardo alla cantieristica dopo la pausa estiva riparte il cantiere in Fipirin nel tratto compreso tra Montelupo e lo Svincolo e Empoli Est. Dalle 22 di mercoledì 19 ottobre inizia l'allestimento per arrivare al cantiere vero e proprio a partire da giovedì 20 ottobre. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Un sguardo al traffico aereo il volo Firenze-Parigi delle 15.20 è al momento segnalato in partenza e in ritardo alle 17.00. E prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, possibili disagi per materiale su strada in via del Ponte Rosso. Maversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio. Grazie a tutti.